Inizieranno lunedì i lavori di allargamento della sede stradale del tratto interno di via statale di Ispica nella parte alta. Sarà ulteriormente abbattuta la parte di roccia che in atto limitava anche la visibilità in prossimità della curva con la quale si accede al centro urbano proveniendo da Siracusa. Per consentire il sereno e celere svolgimento dei lavori, la circolazione veicolare fra via Michelini e il Trivio Ispica-Pozzallo-Rosolini sarà interrotta. Sarà solo consentito accedere al Conad e alle altre attività commerciali vicine. Il traffico subirà le seguenti modifiche in base all'ordinanza emessa dal capo settore lavori pubblici lo scorso 20 agosto. I veicoli provenienti da Modica, aggiungendo all'intersezione con via Scalanova all'altezza della stazione dei Carabinieri, svolteranno a destra fino a raggiungere l'intersezione con la strada provinciale 46 Ispica-Pozzallo. I veicoli provenienti da Siracusa, Portopalo o Pacchino, giungendo all'intersezione con via strada barriera, svolteranno a destra fino a raggiungere l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele. Diverso il percorso dei mezzi pesanti superiori a 35 quintali, quelli provenienti da Modica, giunti all'incrocio con la strada provinciale 45 Beneventano-Pozzallo, proseguiranno in direzione Pozzallo, da dove riprenderanno la strada statale 115 attraverso la provinciale 46 Ispica-Pozzallo. I mezzi pesanti provenienti da Siracusa percorreranno invece il medesimo itinerario in senso contrario. Saranno inoltre istituiti una serie di divieti, divieto di transito e sosta con rimozione forzata nella via statale, nel tratto compreso tra l'ingresso al supermercato Conad e la via Michelini. Senso unico di marcia limitatamente alla durata dei lavori nella strada barriera, nel tratto compreso tra la strada statale 115 e il Corso Vittorio Emanuele, divieto di sosta con rimozione forzata in via Michelini nel tratto compreso tra la via statale e la via delle Madonie. Tutti i tipi di autobus di linea non ne potranno accedere al centro urbano. Le società di autoline sono state avvertite per predisporre fermate alternative fuori dal centro abitato. L'ultima azione dei lavori è prevista entro venerdì 6 settembre. Grazie a tutti.